gentili telespettatori buona giornata parliamo di francesca donato ex leghista andata via perché dalla lega non aveva diciamo la stessa lo stesso tipo di visione delle cose sulle cose più o meno questa è una spiegazione un po così un po generica e nel programma di giletti non è l'arena e dice e puzzero allora anche lui e giletti furioso ma sta scherzando vero allora i conduttori televisivi hanno questo modo di fare che invitano delle persone diciamo discusse come la donato perché gli fanno fare audience però le invitano facendo con un atteggiamento strano nel senso i conduttori sanno che la donato e altri che invitano sono delle persone che poi a volte dicono delle cose non condivisibili allora loro le invitano e poi devono rimproverarle sta scherzando vero ma cosa dice per far vedere al pubblico che lui ha invitato la donato ma l'ha invitata per far capire che dice cose sbagliate no prima di tutto la donato viene invitata per fare audience per vendere pubblicità per non far cambiare canale quindi cercano lo scontro cioè giletti come altri conduttori invitano persone come la donato per creare la litigata in televisione perché la litigata fa non cambiare canale quindi più persone vedono il canale più le pubblicità pagano più le pubblicità pagano più la televisione guadagna più la televisione guadagna più alto sarà il contratto per il conduttore il prossimo anno quindi invitare la donato influisce poi direttamente sui benefici contrattuali del conduttore ci siamo ok quindi il conduttore deve fare il moralizzatore quello che sa quello che è giusto e quello che è sbagliato perché lui è il conduttore quello giusto no e allora invita la donato e parlano 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 degli arresti in russia per le persone che protestano tutti lì fuori un cartello ti arrestano perché non puoi protestare non puoi contraddire il governo perché perché no perché il governo è autoritario lì non c'è una democrazia come la democra le democrazie occidentali c'è una sorta di democrazia chiamiamola diversa alte molto alternativa è una democrazia fino a un certo punto ci siamo capiti e francesca donato fa un paragone dice e beh allora anche stefano puzze restato arrestato a roma se dobbiamo parlare di libertà di espressione non è che diamo dei grandi esempi anche in italia l'ex esponente si riferiva a uno dei no green pass più conosciuti in italia il quale diverso tempo fa ha guidato la protesta dei portuali che non volevano presentare il certificato verde sul luogo di lavoro di fronte a queste parole massimo giletti perde le staffe ve l'ho detto lui è lì per fare il moralizzatore di quello che lui crede sia giusto dice io in italia ho visto tutto il contrario di tutto dice giletti ma non ho mai visto arrestare persone in massa semplicemente perché portavano fiori davanti all'ambasciata ucraina chiaro riferimento a una donna arrestata per aver portato un pensiero davanti all'edificio ma la donato insiste abbiamo visto anche con gli contro gli studenti il governo ma giletti dice non possiamo paragonare robe del genere ma stiamo scherzando allora allora da una parte a ragione giletti e a ragione anche la donato allora a ragione giletti quando dice non possiamo paragonare robe del genere stiamo scherzando in effetti non possiamo paragonare l'arresto di una persona che va a portare dei fiori davanti l'ambasciata ucraina ed ecco questa questo è per dirvi che ci sono paesi dove la democrazia è latente è difficoltosa però dobbiamo anche dire che realmente quando è stato dato il daspo l'allontanamento per puzzer da roma perché era andato lì a fare che era andato lì con un tavolino bianco una sedia si era seduto lì da solo e aspettava che i grandi della terra andassero da lui a parlare insomma ovviamente i grandi della terra non sarebbero mai andati da lui a parlare questo è ovvio non so neanche se lui ci credesse realmente che quelli del g20 g7 quale non so quale g era sarebbero poi andati da lui però era una protesta come dire sono qua per avere delle spiegazioni e la questura di roma lo allontana con un foglio di via come dire per un anno non ti puoi più avvicinare a roma ovviamente è una cosa assolutamente sproporzionata e senza senso no ma come abbiamo lì i venditori abusivi che ti vendono le borse false per terra ce ne sono decine a roma di abusivi in giro per le strade e nessuno gli dice niente però se arriva un lavoratore che fa una protesta da solo senza izzare popolo niente da solo lì era da solo gli fanno un foglio di via capisco che non è paragonabile il foglio di via a putzer con la signora arrestata perché lascia i fiori all'ambasciata russa però l'ambasciata dell'ucraina naturalmente però sono due forme di repressione della libertà di manifestazione del pensiero una più grave una meno grave però come dice la donato che in questo caso secondo me ha ragione ecco non è stiamo parlando sempre di di un'italia come dice lei che non certo non da non dà un grande esempio di democrazia e libertà di espressione no abbiamo visto in italia che si possono fare i rave party dove illegali nella totale illegalità con sostanze illegali in un terreno che non è loro preso in modo illegale distruggendo tutto commettendo tutti i tipi di illecito possibili immaginabili con la polizia che sta lì a 300 metri a guardarli no a guardarli a guardarli o addirittura ad accompagnarli è una sorta di servizio d'ordine no per entrare devi chiedere la polizia se sei vestito giusto no ovviamente non è colpa della polizia ma sono è colpa del delle leggi e eccetera eccetera quindi i rave si fa quello che si vuole poi putzer viene mandato via da roma col suo tavolino e la sedia perché non si sa perché ecco quindi la la donato in questo caso ha ragione se parliamo di libertà di espressione non è che diamo dei grandi esempi anche in italia arrivederci a tutti e grazie grazie